Ciao a tutti ragazzi, abbiamo in questo unissimo video qui, Rosso Sangue, e quest'oggi parleremo della classifica della Serie A. Era da un bel po' che non la facevo, e quindi la facciamo. Allora, primo Milan, secondo Inter, terzo Napoli, quarto Roma, quinto Juve, sesto Atalanta, settimo Lazio, ottavo Sassuolo, nono Alias Verona, decimo Sampdoria, undicesimo Bologna, no, quindicesimo Benevento, dodicesimo Bologna, tredicesimo Tessia, quattordicesimo Fiorentina, quindicesimo Udinese, sedicesimo Genoa, dicesettesimo Cagliari, cittesimo Torino, diciannovesimo Parma, e ventesimo Crotone. E ragazzi, per questo video è tutto, col vetto, in pigiama, cioè ragazzi, non so se si nota, ma sono in pigiama, sto con la finestra aperta, sono nel terrazzo, cioè mezzo terrazzo, mezzo dentro, sto volando, sto volando. Niente ragazzi, iscrivetevi, lasciate like, e al prossimo video.